È più di quattro anni che mi porto un dolore dentro. Questo dolore giovedì con la sconfitta dell'Italia con la Macedonia è tornato intenso come quattro anni fa. In tutto questo tempo ho riflettuto molto e parlato poco. Ho ascoltato però. Quattro anni fa ho subito una lapidazione. Si è passati l'avventura a un maestro di calcio, l'avventura a mangiare i bambini. Quello che non si è dimesso dopo la sconfitta con la Svezia perché voleva rubare uno stipendio. Ho sempre riconosciuto la mia colpa per quell'esclusione. Ma ci sono state anche altre responsabilità. È esattamente quello che la stampa oggi dice ad una sola voce per difendere l'allenatore. Ed è vero. Leggo Proviamo i colpevoli. Quindi ce n'è più di uno. Non è una sconfitta della squadra ma un problema di sistema.